Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 2 novembre 2015. Oggi è la giornata in cui tutti commemoriamo i defunti. Il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà alle ore 17. Sono 10 gradi questa mattina alle 7.30 mentre stiamo trasmettendo in diretta con questa immagine che arriva e ci mostra sulla città di Fano il tempo in diretta. Tempo che potrete vedere sulla nostra pagina internet all'osservatorio meteorologico cliccando sul banner vicino alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo a cura invece della protezione civile, quelle che vi stiamo mostrando in questo momento. Avremo per oggi cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione. I venti sono di brezza tesa da nord, il mare sarà poco mosso. Come sempre attenzione alle foschie e locali banchi di nebbia soprattutto nell'entroterra. Domani martedì 3 novembre cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione nei valori minimi, venti di brezza tesa. Il mare sarà poco mosso anche qui domani giornata in cui sarà possibile nell'entroterra, nelle campagne, nelle vallate. Banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata. Condizioni di tempo stabile per l'intera settimana che abbiamo e stiamo iniziando in queste ore. Allora ci sono diverse notizie questa mattina di cui parlano i giornali, al di là degli incidenti, fatti di cronaca che troverete qua e là sulle colonne dei quotidiani. Carlino Corriere Messaggero diceva, intanto c'è la pagina sportiva che riguarda il Fano, il Fano che non c'è più, un Fano che ha perso anche ieri. 5 a 1, una batosta davvero. Poi c'è la polemica, la polemica che vedremo tra un istante e che riguarda le spese per l'albero di Natale. Se per voi 20.000 euro per addobbare un albero di Natale sono tanti, potete mettervi insieme a tutte quelle persone che si stanno arrabbiando in questi giorni dopo aver saputo che per realizzare un albero di Natale in Piazza 20 Settembre ci vogliono, il Comune spenderà 20.000 euro. Per l'albero di Natale gli addobbi sono fatti di polemiche, la Cisla attacca il Comune, i 21.000 euro previsti anche per le luci sono considerati eccessivi. Li diano al sociale, questo è l'appello della Cisla, ma Cisla che evidentemente non solo critica a nome proprio, ma evidentemente lo fa anche per conto di qualcun altro, nel senso che c'è un po' nell'aria questa polemica su questi soldi, su questo albero che certamente si sta criticando sulla carta, ancora nessuno lo ha visto, non è stato realizzato, ci vorranno ancora diverse settimane, insomma però questo è quello che registriamo attraverso i quotidiani questa mattina. Poi sul Carlino la pagina di Fano c'è anche la pagina dedicata agli appuntamenti per la giornata di oggi al cimitero centrale, dove ci sono delle messe alle 8, alle 10 e mezzo, alle 9 una celebrazione per i defunti dei donatori di sangue, poi alle 15 c'è il Rosavio, alle 15 e 30 una messa con omelia, poi invece al cimitero dell'Ulivo, la messa celebra oggi alle 15 e 30 e poi ci sono vari appuntamenti insomma che potrete leggere su questo articolo. Ma a San Costanzo invece i ladri hanno addormentato un cane a mare in mano per agire poi indisturbati, un tentativo di furto in realtà, un tentativo di furto in un'abitazione per mettere a segno questo colpo, hanno anche neutralizzato un grosso pastore mare malo, Sam si chiama, o Sam, di 14 mesi, delinquenti sempre più determinati e pronti a superare ogni ostacolo, quelli che imperversano in questo periodo nella nostra provincia, in tutta la provincia ormai tartassata, martoriata dai ladri, da questi malintenzionati. C'è anche un fanese invece coinvolto nella baby gang che è stata arrestata l'altro giorno a Rimini, baby gang che terrorizza dei coetani, ci sono scattate appunto le manette, tra gli arrestati anche un giovane fanese, hanno pestato e rapinato dei giovani, un ragazzino ancora minorenne di Fano e tre suoi amici riminesi, poco più grandi, hanno prima pestato e poi rapinato dei coetani l'altra sera a Rimini. Qualche ora più tardi tutti e quattro sono stati arrestati. Altro schianto tra auto all'incrocio di Fosso Signore, tre feriti, una vettura stava procedendo verso Fano mentre l'altra svoltava per l'Ardizio. Certamente un incrocio pericoloso, però alternative in questo momento non credo che ce ne siano a quell'incrocio. Lavorare all'Asur per molti è un optional, cioè spesso un dipendente su due non si vede, ecco le percentuali di assenze dell'area vasta numero uno, dati di due anni fa, leggendo le statistiche del 2013 si scoprono uffici semivuoti con punte del 70%. Andiamo adesso invece a leggere la pagina che non è di sport, perché anche se tratta di motociclismo, ma stiamo parlando di Valentino Rossi, cresce l'attesa per questa ultima gara. C'è questo invito ad andare a Tavuglia a vedere attraverso questi maxi schermi questa gara che sarà il Cartiopalma il record dei tre maxi schermi, eppure la VL, la società di basket, la squadra di basket di Pesaro, si schiera con Rossi. Il sindaco di Tavuglia è preoccupato, come gestiremo la marea umana? Allertati la protezione civile, il fan club, il volontariato, la proloco, naturalmente le forze dell'ordine, i tre impianti sono a Tavuglia, Pesaro, Cartoceto, per Rossi è un atto di vicinanza. Ultimamente ieri si è aggiunto anche il comune di Pesaro con questo maxi schermo. E sotto invece i tifosi, i tifosi per lui anche allo Stadio Olimpico di Roma, quel cartello che diventa subito virale. Cosa significa virale? Lo dico agli anziani, quelli che ci ascoltano tutte le mattine. Virale significa che una volta che è stato pubblicato, metti su Facebook, quella foto viene presa da tanta gente, viene moltiplicata, replicata, ricondivisa, condivisa con tanti altri. Quindi da uno diventa cento, mille, un milione di volte. Quindi virale. Andiamo adesso invece sulla pagina del Corriere Adriatico. Un frontale da brividi a Senigallia, un'auto finisce contro uno scooter, incidenti lungo la statale alla Cisanella, feriti il centauro e la donna alla guida di una lancia Y. Mentre sotto alcuni ragazzini mascherati con delle maschere da Halloween entrano in casa e si trasformano in ladri. Rubato, un peluche ad una bambina a cui evidentemente teneva tanto, la mamma se ne è accorta e poi ha lanciato un appello su Facebook dicendo di restituire questo peluche della sua bambina. Quando si dice che Halloween non può che ispirare il male e non il bene. Quattro ragazzini rapinati da una baby gang, anche qui a Pesaro, spintonati e colpiti con calci e pugni, sono stati derubati di cellulare e portafogli, arrestati gli aggressori. Il fatto è accaduto a Rimini in manette minore di 16 anni e due 19 anni. Tra loro c'è anche un pesarese, ma l'avevo visto che insomma è un fanese. Grazie alla descrizione puntuale resa dalle vittime, la banda già nota alle forze dell'ordine è stata bloccata. Furti in dieci abitazioni invece sempre a Pesaro e nel parcheggio del cimitero. I ladri in azione a Pesaro Urbino. A San Costanzo due malviventi sono stati inseguiti dai vigili urbani ma sono riusciti a fuggire. La pagina di Fano invece, al di là della critica sugli oltre 20 mila euro che si spenderanno per l'albero di Natale e che la CISL giudica come una vergogna, la CISL contesta la scelta dell'amministrazione, ora è solo tempo di solidarietà, dice il sindacato, monitorare tutti gli ingressi invece alla città. Queste sono le parole del sindaco di Fano Massimo Seri che anticipa i progetti relativi alla sicurezza della città di Fano e delle zone limitrofe e conferma l'importanza delle telecamere come per esempio quelle da installare alla stazione ferroviaria. La videosorveglianza alla stazione infatti ha già dato ottimi risultati sia nelle prevenzioni che nella repressione. Sotto invece servizi, strutture e personale ecco il questionario sul cimitero, il comune ai cittadini, proseguono i lavori per l'impianto di cremazione. Poi si parla di un incontro dedicato alla memoria di Luni, Tempio della Dea Fortuna, le riflessioni di Manfredi. L'altra pagina invece del Corriere Adriatico tratta lo sport, ma lo vedremo tra un attimo. Apriamo adesso il messaggero. Il messaggero in apertura le luci di Natale, saranno di rosso un rosso dominante. L'assessore delle noci studia una coreografia nuova mai vista in centro storico. Saranno grandi festività, i commercianti hanno partecipato. Accensione il 27 di novembre. E sotto a centro pagina invece una grande zucca per parlare delle razzie di Halloween. Alla fine lo scherzetto nella notte di Halloween lo hanno fatto in molti casi i ladri che sono entrati nelle case. Poi vedremo tra poco hanno rubato a Fano anche delle zucche. Mentre paura ieri in un appartamento a Lucrezia, Lucrezia di Cartoceto, dove le fiamme si sono sprigionate da una camera da letto, probabilmente per colpa di una stufetta. Paura ieri pomeriggio sul posto i vigili del fuoco di Fano. Sotto, Chef in the City, riparte dai fornelli la sfida dei cuochi per passione. Da mercoledì a Fano si affronteranno pensionati, impiegati, imprenditrici e commercianti. Allora, una ragazza a Baia Flaminia invece ieri è stata soccorsa perché era scivolata dagli scogli in momenti di apprezzione ieri mattina per una ragazza che accidentalmente è scivolata dagli scogli rimanendo con una gamba incastrata fino al ginocchio. È successo ieri mattina nella zona di Baia Flaminia dell'ex campo di Marte. E poi sulle pagine del messaggero la crisi che sta investendo le imprese, le nostre imprese, debiti per 164 milioni di euro, debiti che comunque le imprese devono pagare, non è che non le paghino. Però, come dice il Presidente dell'Ordine dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate, ci sono oltre 17 mila posizioni aperte che indicano come tutte queste aziende pagano questi 164 milioni a rate. Oltre 17 mila le posizioni che pagano a rate. Le stilicidio delle aziende continuano, ma sono in calo dell'11%, quelle che aprono una procedura fallimentare. Insomma, si cerca di tenere duro, si cerca comunque, anche se questo Stato ce ne fa vedere di tutti i colori, si cerca di rimanere in piedi, anche se spesso avrebbe voglia di mandare tutti a quel paese. Balestieri dice, la nostra professione è cambiata, siamo come i confessori o bersagli di sfogo. Anche qui il ragazzino fanese rapinava i coetanei e sotto, razzie nella notte di Halloween e a Fano rubano anche le zucche, denunciati numerosi furti nelle abitazioni. Chiudiamo con lo sport velocemente il Fano, il Fano che dicevamo non c'è più. Ecco qua, il titolo che non avremmo mai pensato di vedere in questa stagione, che a dire vero era partita bene, poi non si capisce che cosa è successo. Una metamorfosi inspiegabile, una metamorfosi che ha dell'inverosione. Non si capisce cosa è successo, gli stessi più o meno giocatori che per una stagione hanno stravinto, sono rimasti imbattuti, andavano come dei kamikaze, alla fine improvvisamente, tre o quattro domeniche fa hanno cominciato a colare a picco e a perdere. Su quattro partite tre ne hanno perse. Ieri hanno perso a Teramo contro, per carità, un San Nicolò straordinario, fortissimo, 5 a 1, 5 gol hanno preso i Granata senza cattiveria, agonistica e senza attenzione. Incassano un KO pesante. Alessandrini nell'intervallo tenta il tutto per tutto, l'allenatore, ma il passaggio al 4-3-3 non dà i suoi frutti. Ci sono le pagelle, la difesa è un disastro, Gucci l'ultimo ad arrendersi, le dichiarazioni sotto dell'allenatore Alessandrini, che se la prende anche con l'arbitro, dice rigore negato sul 2-0, il DS Teramano Micciola dice ha preso 5 gole, parla del direttore di gara, in effetti volano parole grosse, insomma anche negli spogliatori, insomma ieri come ci raccontava Sergio Catalani quando è rientrato dalla trasferta, insomma è successo un po' di tutto. La Viss invece, Viss Pesaro, si è fatta squadra a punto pesante, la Viss ad Avezzano ha pareggiato 1-1, mentre l'ultima pagina del Corriere, la dedichiamo allo sport anche qui in Cubofano, travolto dal San Nicolò, partita senza storia a termo, dove i ragazzi di Alessandrini finiscono in 10 per l'espulsione di Nodari, Nodari è quel signore che abbiamo trasmesso l'altro giorno, che si è arrabbiato con il nostro telecronista, telecronista che però a questo punto verrebbe da dire, insomma ci ha visto un po' lungo, adesso avrà tutti i suoi difetti, avrà tutti i suoi modi, ma da tifoso e da conoscitore comunque, grande conoscitore del calcio, insomma, secondo me poi si può dire tutto, ma evidentemente ha capito, come l'abbiamo capito noi e io, che non mi intendo di calcio, insomma qualcosa negli spogliatoi è successo, bisognerà capire cosa e capire se è una frattura che si può sanare e dunque sperare ancora nel campionato. È tutto, grazie per averci seguito, a domani.